Da questi piccoli dettagli a nostre grandi creazioni, Cristini's Ristorante Italiano non è solo un ristorante, è un'esperienza. Cada dish è una masterpiece, creato da nostra città di culinari. Con una lista di vino di un vino di vero e romantico, creerai memoria che dureranno un'ora di vita. Questo è il primo e solo Cristini's Ristorante Italiano.